salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono grace proseguiamo la nostra avventura con il gioco dei tectomantes allora ragazzi come avete potuto vedere nella puntata precedente ci hanno affidato un bel po di missioni da andare a svolgere allora quindi presuppongo questo episodio per andarle a terminare tutte lo separerò in diversi in diverse puntate in diversi episodi ok allora iniziamo con questa che è la più vicina ottieni la conferma della morte del rabodomante di aurora da un alleato ed è subito qua vediamo un po cosa ci dice ok a roma è che la roma è stata riposta bisogna sapare che è molto più che un roma è vero se è vero potre poter convidire alcuni membri di un asemble che la victor ha bisogno di andare anche se non mi piace l'idea di continuare il conflico tra l'abondanza e la aurora che ha costato Grazie, Melvin. Ok, vediamo un po' la mampa ragazzi, dove si è andato a collocare questo punticino esattamente qua, linea d'ombra, ok. Quindi dobbiamo viaggiare e andare a parlare qua. Perfetto. Ok, vai nella vecchia cupola, va bene. Quindi ragazzi, dobbiamo decidere se cosa fare per primo, mi sa, eh. Perché o andiamo nella vecchia cupola o andiamo a liberare il tipo là. Allora, proseguiamo con questa missione qua, se no non ce la cadiamo più. Vai nella linea d'ombra, ok. Ok, trovo un modo per fermare il treno, vediamo un po'. Allora, vediamo vediamo, trovo un modo per fermare il treno di lì, trovo un modo per fermare il treno di qui e trovo un modo per fermare il treno, ok. Ok, quindi presuppongo che dobbiamo andare avanti a sinistra e scendere giù, ok. Cazzuti e cattivi ragazzi, come sempre. Ok, vediamo un po' ragazzi. Ma non metti il generatore. C'è anche un po' incazzato questo, eh. Ok, prendi il tablet e il messaggero di Aurora, va bene. Lampo la mappa. Allora, dobbiamo di sicuro tornare... Dove si è fermato il treno. Di sicuro ci saranno quei rompi zebedei che ci aspettano. Eccoli là. Strano, che non ci attaccano. Non possiamo direttamente andare sul treno, no? Assolutamente no. Sei un messaggero? Io, guarda, non posso dire niente. Porremmo, se non posso, l'informazione che ho è... Lo so, lo so, ma dovrai compilare. Allora, il treno è stoppito. Ho bisogno di il tuo tablet e tutte le informazioni che puoi provare a me sull'intimidazione. O, 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 cosa? Non potrei mai jeopardizzare Aurora. Allora, intimidisci. Proviamo con intimidisci, ragazzi. Inoltre, mi darai ciò che voglio. Puoi darmi a me o posso prenderla con le tue tue tue. Ah, riuscito, riuscito. Tentativo, carisma, riuscito, ragazzi. Il nostro douser, wisdom, è stato segnato e esecutato. Prendi il mio tablet. Se non ha qualcosa di altro che vuoi sapere, ora, porremmo, porremmo, lasciami solo, porremmo. Ottimo. Tablet di messaggero. Beh, le prove a Elyth, in modo che le dia al generale. Ok, vediamo un po' la mappa, ragazzi. Andiamo ad andare a Opir. Ok. Dunque, a Opir, in qualsiasi caso, dobbiamo fare anche qualcos'altro. Forse questo. Incontro il leader recinto dei mutanti. Ok. Perfetto. Andiamo. Cazzuti effettivi. Proviamo a Opir. Ok, allora. Mappa. Andiamo subito dove dobbiamo muoverci. Parlo con il cittadino importante, va bene. Adesso mi puzzo di trappola. Comunque, proseguiamo. Ok, ragazzi, stiamo andando verso... ...discussione con quel personaggio famoso, importante, che ci ha detto di voler parlare con noi. Vediamo un po'. Alla cosa you could do would surprise me. Oh, you're right. Your Honor, I wish I'd known. You sent me that message? I need to talk to you. I've kept an eye on you since you saved me. I never believed the lies the Colonel's been spreading about you. I just, unfortunately, did not know how I could be of help. Victor is a power-hungry sociopath, driven by his personal goals, destroying abundance. I've known it for years, but I could never do anything about it. Why not? Four years ago, my son disappeared, and soon after, I started receiving messages telling me that if I ever wanted to see him alive, I needed to make certain decisions in my court. I never knew for sure who was behind it, even if I had my suspicions. Only recently did it become clear. Every decision I was instructed to make cleared the way for Victor's rise to power. He's holding my son, making me his puppet. It has to stop, for my son, for abundance, do you hear me? I have seen your strength with my own eyes. Save my son, and I promise you will not from this day forward fight the ASC alone. With my influence in the Assembly, I could easily have you reinstated. I just want Victor to fall. That's enough for me. Any idea where he might be holding your son? I wish I did. I know the ASC has secret facilities. Some say they're in the Underworks. I don't know. Here say perhaps, but if true, maybe someone in the army or mutants who helped build them might know better. I'll do my best, Your Honor. I promise. Ok, trova la base dell'ACC, ok. Allora, e questo ci abbiamo parlato. Vediamo un attimo. Allora. Trova la base quello lì, ok. Incontra il leader del recinto dei mutanti. Va bene. Ok ragazzi, ci siamo, ci siamo. Dobbiamo parlare con il tipo, vediamo un po' dov'è che è imboscato. Deve essere questo qua. Ok, qua. Ci sono un'esplosione per poterciare la scuola, ma non posso fare nulla di qui. Ci potrebbero trovare un'esplosione su me in un'esplosione. Se puoi trovare un'esplosione, potremo fare un'esplosione più grande per uscire. E ho bisogno di assicurare alcuni gruppi. Ci sono anche bisogno di dare un'esplosione. Molti di loro sono assicurati di disegnare gli uomini. Ma potrebbero ascoltarti a te. Inoltre c'è un'esplosione. Cosa? Cosa? Abbiamo un'esplosione. C'è un'esplosione qui che funziona per gli uomini. Non ho capito di chi. Ma se non lo facciamo, il nostro plan di esplosione sarà fallo prima che si è iniziato. C'è un'esplosione per poterciare la scuola? Non è sicuro. Ma se un'esplosione prende i nostri iconi legionari, come Phobos o Scum, potrebbe provare a l'esplosione. E cantare le prezioni ai mondi. Ok. Allora, prenderò la scuola. Questo è ancora così oddio. Ma ti ringrazio. Ok. Ottieni una bomba. Una bombazza. Convince di fuggire al maggior numero di mutanti possibile. E trova l'informatore tra i mutanti. Va bene. Parla con Amelia della bomba. Allora. Allora, Amelia è qua. Allora, chi ti sei? Allora, chi ti sei? Allora, Amelia. Allora. 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 potremmo direttamente parlare anche con questi qua. Per convincerli a fuggire. Allora. parla di Mutant Valley parla di Capi dei Mutanti ok, uno di tre, perfetto vediamo un po' ce n'è un altro qua questo ok oh ma questo è il Mino ok, e anche questo è andato perfetto, andiamo a parlare con gli altri la talpa l'abbiamo beccata quindi quella a posto allora, carisma ok, tentativo riuscito, ottimo perfetto anche questo a posto, allora manca di andare a fabbricare la bombazza ottiene una bomba, ok compagna Amelia l'ha rimessa, ok per far costruire questa bombazza qua vai alla vecchia cupola successivamente ok, andiamo a costruire la bombazza ok ragazzi, siamo arrivati con Amelia vediamo un po' cosa ci dice ok ok perfetto, la bomba è stata costruita quindi questa missioncina qui diciamo che è andata a buon fine dobbiamo dare la bomba al capo dei super mutanti piccazzuti ok 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 siamo arrivati di violenza ragazzi e vediamo un po' cosa ci dice adesso il bombarolo andiamo 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 no, non sederti che devi fare esplodere il mondo dai ok e anche questa è fatta reputazione più uno ottene il sostegno sufficiente dell'assemblea va bene vediamo un po' ragazzi le altre missioncine allora abbiamo ehm assicurita di violenza ok dai le prove a Elisa che è questo qui è qui nel paesello questo qua poi trova le reliquie ottieni il sostegno e il sufficienza dell'assemblea del popolo ok inizio riservato trova questo qui dobbiamo farlo che è qua e le prove ok successivamente vedremo il resto va bene va bene vediamo un po' andiamo andiamo una mi sembra che addirittura è qua informazione sulle basi segrette ok quindi abbiamo trovato anche l'entrata della base segreta perfetto e anche quello è fatto dobbiamo sempre andare a dare le prove a Elisa che lo facciamo subito immediatamente vediamo un po' dov'è che è Elisa allora allora Elisa è allo scambio ok quindi fuori usciamo e andiamo sempre sempre dritti ok ok andiamo ad Amelia ciò che gli è meglio ok ok questo qui è quello ok non era meglio ma era Elisa ok quindi ci manca ancora uno di cinque ok vediamo un attimo le missioncine ragazzi vediamo un po' allora trova le reliquie trova le uniformi a essere ok ottieni il sostegno sufficiente sempre del popolo ok entra nella base e questa qua perfetto vediamo un po' entra nella base che è subito qua bene e l'altra missioncina era ottieni sostegno beh questa qui è successiva a queste qua quindi dobbiamo entrare nella base ASC ok ok ho ammazzato un po' di gentaglia e l'entrata è questa qua allora trovo il figlio del giudice Babini qui sarà un bel casino ragazzi ok ok dobbiamo essere vicini all'obiettivo ragazzi dovremmo essere vicini alla liberazione del bambino forse quello lì il bambino mi sembra un po' cresciutello intanto scassiniamo il totos e vediamo un po' bambino bambino allora carisma cerca di drogarli proviamo con carisma ragazzi non mi sembra il caso di drogarli che non ti abbandonare l'ASC ti ha kidnap e ti ha utilizzato per blackmail il tuo padre ha seguito le domande per i ultimi 4 anni tutto per mantenerti sicuro come si sapeva le tue 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 giudice supremo minchia minchia ok e anche questa è andata direi abbiamo un po la mega mappa quindi dobbiamo fuori uscire da questo inferno ok ho combattuto l'inverosimile ragazzi l'inverosimile il mondo il mondo ce l'aveva con noi ok ok siamo arrivati dal grande giudice supremo ottimo direi spettacolo ragazzi spettacolo anche questo abbiamo portato termine egregiamente direi egregiamente ok incontra il membro dell'assemblea e trova le reliquie trova le reliquie sinceramente non abbiamo ancora visto dov'è che potrebbero essere dobbiamo andare a parlare con dandolo mi so invece l'ha premissa in cina questa vediamo un po dov'è che sarebbe subito qua incontra il membro dell'assemblea ottimo quindi andiamo subito immediatamente dal tipo ecco ecco Allora, Carisma, parla dell'impatto politico degli scandali di Victor, parla della corruzione, parla dei metodi di viso sulla popolazione. Proviamo Carisma, ragazzi. Scandali e i suoi metodi hanno scocato i membri della Congregazione e i comuni. Continuando il supporto del colonel è un suicidio politico. La fiducia tra i loro e i loro leader deve essere ristortata per il buio di abbondanza. Riuscito, grandi così, grandi così. Parla della corruzione, ok. Ok, racconta di quelle robe lì. Conferma il tentativo di corruzione. Ma pure questo vuole essere corrotto. Infatti, prima critichi, ok. Dai, dai, veloce, veloce. Trova le reliquie, trova l'uniforme, ok. La caduta del colosso, ottimo. Abbiamo svolto un bel po' di missioncine, ragazzi, eh. Un bel po' di missioncine. Naturalmente alcune andavano a eliminare altre perché potevano farlo in diverse modalità, questa tipo di missione qua. Allora, vediamo un po'. Quindi adesso sono rimasta solo questa qua. Quella principale. Quindi vai alla vecchia cupola. Ok. Quindi non dobbiamo neanche più andare dal nostro amico Dandolo a rompermi le scatoline. Ok. Quindi dobbiamo andare alla vecchia cupola dove, se ben vi ricordate, il primo episodio è stato svolto lì. Il primo o il secondo episodio che era la nostra prima missione per diventare il Tecnomano. Ma questo lo vedremo successivamente. Amici, io direi che il nostro episodio o i nostri episodi terminano qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Per caso non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.